Consigliera Salsi, prego. Grazie Presidente. Io volevo, anche se mi sembrerò ripetitiva, comunque rinnovare il favore a questo nuovo regolamento. Ho apprezzato molto il percorso che è stato fatto dall'amministrazione in maniera condivisa, che ha unito intorno allo stesso tavolo genitori, scuole, servizio mensa, amministrazione, consiglieri comunali, che ha servito secondo me a dare un quadro completo e a costruire quindi un regolamento che fosse veramente partecipato a 360 gradi, in maniera tale che ogni soggetto ha potuto contribuire con il suo apporto, le sue conoscenze, dai diversi punti di vista attraverso i quali veniva approcciato il discorso. Quindi annuncio il mio voto favorevole e consapevole che ci sarà un lavoro di controllo sull'effettivo funzionamento di queste commissioni, in maniera tale da verificarne l'effettiva utilità e eventualmente ritrovarsi a fare delle modifiche nel caso servano.